La Fidelisandria continua a credere nei play-out, il pareggio rimediato domenica nello scontro di letto sul campo del Monte Rosituscia, pur non lasciando in eredità una prestazione brillante come quelle sfornate nelle precedenti uscite contro Monopoli e Crotone, ha consentito alla truppa bianco-azzurra di abbandonare per la prima volta dopo diverse settimane l'ultima posizione solitaria in classifica. Agganciata a quota 26 punti la Viterbese, superata in rimonta dal Crotone, prosegue la lotta 2 con i laziali, gli unici ai quali i federiciani possono sperare di arrivare davanti al termine della regular season realisticamente, ma l'attenzione va anche rivolta alla distanza dalla quinta ultima della classe, il successo del Messina a potenza ha permesso ai peloritani di sorpassare la Gelbison che quindi al momento diventano il punto di riferimento dei pugliesi con i loro 35 punti, se il campionato finisse adesso gli spereggi salvezza non si disputerebbero visto che è considerato il limite massimo di 8 lunghezze di distanza da non superare, ma per fortuna di Dalmazzi e compagni ci sono ancora 5 partite in programma, la fiammella della speranza che sembrava essersi spenta nelle settimane precedenti al ritorno di Cudini si è quanto meno riaccesa, grande merito in tal senso va attribuito proprio all'ex tecnico del campo basso, abile nel toccare le corde giuste e soprattutto nel far produrre risultati alla sua squadra, 5 punti in 3 giornate, 2 pareggi e una vittoria che aggiungendosi al segno X rimediato contro la stessa Gelbison nell'ultima della gestione Trocini compongono un filotto di 4 risultati utili consecutivi, il migliore dall'inizio della stagione, la strada è ancora tortuosa ma a questo punto è doveroso provarci fino in fondo, prossimo ostacolo nella seconda trasferta di fila il Giuliano di Mister di Napoli, tornare a casa dal partegno con il bottino pieno, vorrebbe dire tantissimo